ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi parliamo di motorsport games e di modelli economici ci risiamo ragazzi e niente un altro sviluppatore che da forfè praticamente con la dichiarazione e la conferma di traction di questa mattina il consiglio di amministrazione di motorsport games apre le porte ad un'eventuale fusione o vendita del gruppo motorsport games quindi ragazzi ce lo aspettavamo ieri parlavamo di licenziamenti in tronco di oltre 20 dipendenti di che stiamo parlando ovviamente doveva arrivare l'unica cosa che mi dispiace che tutto il contesto di questa storia è stato un po camuffato da motorsport games che ci aveva fatto sperare bene e lo ricrimino come abbiamo fatto per quanto riguarda gunos in termini di trasparenza sul titolo al set col 6 però non voglio annoiarmi con la storia di quello che è successo eccetera di tutti i passaggi finanziari di le mansa ultimate e motorsport games in particolare però è una storia che si ripete ragazzi perché non è che siamo non è che siamo nuovi a questo tipo di situazione io basta fare un passo indietro con race room ad esempio che vi ricordo simbin che poi è stato ceduto a sector 3 studio che poi è stato ricomprato da kw parliamo di r factor 2 passa dagli easy a studio 397 a motorsport games parliamo di che cosa setto corsa kunos prodata digital bros casa madre dei 505 games ragazzi ormai nel mondo del sim racing ormai è diventato un'abitudine che ci sono problemi finanziari e che non riescono a risolverla che pensano di arrivare con una nuova mentalità certo noi siamo lì che aspetti che bello è arrivato un finanziatore poi alla fine ti rendi conto che partono milioni di euro e finiscono per strada e a me dispiace perché comunque un titolo come le mansa ultimate aveva delle buone prospettive spero vivamente che ci possa essere una fusione con qualcuno o un accordo come hanno pensato optato per poter avere un partner che li possa portare rapidamente sul mercato delle delle console perché veramente sarebbe una botta di vita economica però rimane anche la preoccupazione che questo tipo di cambiamento potrebbe snaturare un forse le mans nel senso che potrebbe diventare un arcade non lo so perché la politica finanziaria di uno che viene a investire dice senti adesso era senti le mans fino adesso era un simulatore non funziona la nicchia è troppo poca apriamo facciamo qualcosa di un po più arcade un po più accessibile non è una situazione inverosimile perché nel passato l'abbiamo visto molte case di sviluppo hanno cambiato modello fisico per renderlo più accessibile volete un titolo project cars 1 c'era una build ragazzi che era fantastica ed è totalmente cambiata proprio per una questione di accessibilità se tu fai una cosa troppo simulativa magari non hai troppo pubblico che verrà a comprarlo ma che cosa ci vorrebbe per ovviare a queste diciamo difficoltà finanziarie ragazzi basta guardare il modello economico che funziona il tanto criticato ai racing non lo voglio difendere sto solo parlando del modello economico è vero quando mi dicono fabbri è una spirale senza uscita che hanno fatto in modo tale che tu sei aspirato dal modello loro e non ne esci più sì è vero però funziona da 16 anni funziona da 16 anni cioè oltre 250.000 account attivi dall'ultima volta che sono andato a vedere di che stiamo parlando se andiamo su r factor 2 le mansa ma pure che siete mille duemila cristiani che gira tutti insieme e non ci sono che che gli portate a motorsport games cioè il 13 per cento degli acquirenti di le mansa ultimate ha comprato i dlc e gridavano vittoria è ridicolo come risultato assetto corsa 10.000 persone collegate bellissimo ma non porta nulla a kunos infatti hanno dovuto fare 2018 assetto corsa competizione chiuso il modding ok con quel motore grafico amato e odiato adesso devono fare assetto corsa evo e non so se saranno aperti al modding ragazzi vabbè poi cosa abbiamo race room free to play pagare se tu vuoi altri contenuti appresi questo studio kw che stanno facendo un buon lavoro rain sport boh poi cosa rimane automobilista 2 loro vivono con i dlc che escono ogni anno e sono delle lumachine perché rimangono diciamo passate i miei termini in famiglia per non avere troppi troppe spese perché ragazzi quando dovete comprare una licenza avete sentito parlare le cifre indicare 2 milioni e 900 mila dollari cioè non è che sono polpettine quindi i soldi li devi fare entrare ai racing ai racing ragazzi sì paghi tutto molti di voi mi diranno sì ma non è giusto che tu paghi l'abbonamento e compri contenuti però se non paghi l'abbonamento ti sei comprato i contenuti non li puoi usare va bene sono d'accordo con quello che volete non la condivido sta cosa perché comunque voi entrate a casa loro sviluppano tutto vi danno a disposizione anche offline eventualmente è la possibilità di sfruttare i loro contenuti che hanno fatto loro le piste che hanno fatto loro che hanno speso un sacco di soldi e voi offline vorreste non lo so non la condivido sta cosa però la rispetto ma hanno ragione loro vi ripeto 16 anni di attività hanno un servizio al top non è il miglior simulatore e questo lo ammetto però c'è di tutto ragazzi c'è è sempre è fantastico quel mondo lì quindi paghi sì però cavolo hai uno standard qualitativo pazzesco non voglio fare paragoni con gli altri io vorrei che questo titolo quasi salvasse e anche refactor 2 che uscisse refactor 3 non voglio che io venga non mi fraintendete però io cioè a me piacerebbe a questo punto pagare un abbonamento a studio 397 io gli ripagherei 100 euro all'anno io gli li direi ragazzi perché solo così si salverebbero altro che fa il riacce si prego aiutatemi ti faccio il dlc in riacce me lo compri per favore non funziona più basta 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 ragazzi adesso bisogna cambiare fare le cose seriamente e inutile che mi dite ma bisogna permetterselo ragazzi se avete un volante per girare anche d'occasione 150 euro avete spesi per un t80 come hai trovato il modo di girare con un t80 ok trovi il modo di pagare il tuo abbonamentino al mese così hai un giochino che è sempre già se no non fai simulazione qualsiasi qualsiasi hobby che fa andate in palestra quanti soldi spendete ragazzi per chi va in palestra andate a calcio che fai senza le scarpe vai senza dice con la tuta stracciata posso sì ok ma generalmente tutti spegniamo quando uscite per mangiare una pizza quanti soldi spendete se avete l'abbonamento netflix quanti soldi soldi spendete se non pagate l'abbonamento non guardate i film anche prime paghi l'abbonamento c'è una parte dentro in più da noleggiare o comprare spotify volete la musica tutto quello che dovete pagare bisogna pagare ragazzi one shot è finito one shot ormai è comprare sapete che cosa da mangiare è finito il one shot non è un modello che conviene più alle aziende soprattutto agli sviluppatori infatti un modello che sta andando fortissimo per quanto riguarda modelli che non c'entra niente con gli sviluppatori è quello che dice io ti do il software gratuito però mi paghi l'assistenza un'assistenza perenne e così io posso sviluppare so che ho un introito ogni mese di poco a te ti costa relativamente poco è un sistema sempre al top c'è una cosa che mi passa strana quando si è parlato di abbonamento per le mans non ho sentito pareri negativi ma sì sì perché no io sostenerei come ho sostenuto con l'early access allora ragazzi ovviamente il modello dovrebbe essere un po diverso dai racing cioè avere le stesse strutture magari pagare l'abbonamento però per tutto non per la parte online single player sì o no per tutto così sosteniamo e così possono sviluppare tutto questo sarebbe l'idea giusta io non so che cosa ne pensate e infatti vi invito a lasciare un commento qui sotto mettete un pollice in su se vi è piaciuto questo video e ovviamente iscrivetevi al canale perché tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao